Questo, parliamo ancora di votazioni? Ragazzi, parliamo della Lega, ragazzi, purtroppo. La Lega invece... Della Lega, tra l'altro la Lega, ah lì, quelli della Lega, nel Trentino Alto Agile, sono considerati terroni. Tutto relativo. Tutto relativo, cioè, come disse De Crescenzo, ognuno, aspetta, disse, ognuno è sempre meridionale a qualcuno. A qualcun altro. È sempre, è tutta una questione di posizione geografica. Allora, la Lega, la Lega, guardate qui la notizia, ve la do, questa notizia la dà Rai News, quindi quelli della Lega, prendetevola con Rai News. Il TGR Bolzano ce la dà, vedete? Vedete qui, guarda, terracollo della Lega, per le consenze rispetto al 2018 e volano le accuse. Vedete, Bessone, poverino, Bessone, uno c'è Bessone. Luke Bessone, tra l'altro, dice, sono stato lasciato solo. Lega, 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 ma a quel sopra...